L'ex caserma bucciante di Chieti è stata trasferita in parte dallo Stato alla Regione. L'obiettivo è la sua valorizzazione, un accordo siglato in virtù dei principi del federalismo culturale secondo le dichiarazioni del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Entro il 2025, poco più, sarà riconsegnata alla città di Chieti la biblioteca provinciale che verrà trasferita proprio all'ex caserma bucciante per un importo complessivo di 6 milioni di euro. Oggi l'accordo firmato dal Presidente della Giunta regionale Marsiglio, dal Direttore dell'Agenzia del Demanio regionale Francesco Tarricone insieme al rappresentante del Ministero della Cultura nella sede della Regione di Piazza Unione. Ma ascoltiamo il Governatore. Un traguardo importante con la firma di questo accordo di valorizzazione insieme al Demanio e al Ministero della Cultura. Si realizza un sogno, sono un decennio che si sta cercando soluzione sia nel riutilizzo di questa importante caserma, di questo bene peraltro monumentale, ottocentesco, sia per dare una sede degna alla biblioteca De Meis che dal giorno del sisma è rimasta inutilizzata e inutilizzabile. Quindi abbiamo lavorato in questi anni anche aggiungendo risorse rispetto al primitivo accordo di programma, 2 milioni e mezzo che si aggiungevano i quattro già presenti che sono stati decisivi e determinanti per lo sblocco della situazione. Abbiamo affidato ai nostri dirigenti il compito di seguire questa pratica. La dottoressa Valenza ha nel giro di un solo anno chiuso una complessissima operazione che coinvolgeva molte istituzioni e che era stata una delle ragioni delle lungaggini e della difficoltà di mettere tutti d'accordo e di trovare tutti insieme la sintesi necessaria. Quindi grazie a questo ottimo lavoro amministrativo e politico che abbiamo portato avanti oggi consegniamo alla città di Chiedi e all'intero regione Abruzzo un bene che verrà valorizzato, una biblioteca che tornerà ad avere nuova vita e un polo culturale integrato che sarà un punto di riferimento importante per la città di Chiedi ma per tutto l'Abruzzo in generale. Presente è impossibile parlare di tempi? I tempi sono descritti nell'accordo di valorizzazione ma credo che se tutto filera liscio e se le stazioni appaltanti avranno la capacità di rispettare le tempistiche previste nel corso del 2025 quindi tra un anno e un anno e mezzo al massimo noi dovremmo aver concluso questa operazione quindi anche tempi abbastanza ragionevoli e rapidi.